Siamo qui insieme a Sozio Consumatoris e Sardinia Pulitta perché siamo parte civile come Confederazione Sindacale Sarda e gli amici in questa causa contro alcuni funzionari del comune di Iglesias di Domusnovas e chiaramente i responsabili della fabbrica RVM di Domusnovas, la fabbrica delle bombe perché questi signori hanno autorizzato il raddoppio della fabbrica nonostante una sentenza del Consiglio di Stato avesse detto chiaramente che non c'erano le condizioni per poter fare questo raddoppio dell'impianto. Ora aspettiamo la sentenza che ci hanno detto arriverà a metà di dicembre ma siamo alle diciamo alle battute finali. Siete in buona compagnia? Certo siamo qui presenti sia in aula con i nostri avvocati di parte civile sia qui per dimostrare che ci siamo e che questa fabbrica non deve andare avanti. Abbiamo le sigle di? Confederazione Sindacale Sarda Css, Sardegna Pulita e Assosso Consumadores. Il prossimo appuntamento sarà a metà di dicembre per la sentenza definitiva.